Il senso comune adesso è che ci sono delle categorie che avvertono più facilmente il dolore del tunnel carpale, che lo subiscono più facilmente. Parlavamo del mouse, piuttosto di chi usa molto il motopicco. Cosa può dirci lei riguardo? Il motopicco è il martello pneumatico? Sì, sì, sì. Certamente il martello pneumatico peggiora, ma diciamo che la sindrome del tunnel carpale è che una neuropatia del nervo mediano al polso è innanzitutto secondaria alle dimensioni di questo passaggio, una strettoia fisiologica che tutti noi abbiamo, solo che in alcune persone è più stretta e in altre persone è più larga. Questa è la ragione del perché la sindrome del tunnel carpale non è mai monolaterale. Anche in quelli che lavorano con la mano destra, se diviene il tunnel carpale, diviene anche poi dopo un pochino la mano sinistra, perché c'è appunto una predisposizione che è geneticamente determinata. Poi tutti gli eventi della vita che peggiorano le condizioni, che già sono difficili in condizioni fisiologiche del nervo in questa strettoia, il nervo passa in mezzo a tutte le guaine tendine, quindi per esempio anche attività sportiva, il tennis, cioè tutte le attività che possono stressare il polso, possono produrre infiammazione locale o edema e comprimere maggiormente le fibre nervose, addirittura la ritenzione idrica, questa è una delle ragioni probabilmente perché è più frequente nelle femmine che nei maschi, più che per ragioni lavorative. Però ovviamente ci sono anche delle professioni in cui il polso spartisce uno stress importante e quindi aggrava le condizioni. Io sono più d'accordo con chi a dire che sì, questo è vero per chi usa il martello pneumatico per spaccare l'asfalto e meno con questa leggenda dell'uso del mouse che secondo me è una fola che a forza di stare davanti al computer ha derangiato molti degli operatori. Alla comparsa dei primi sintomi cosa dovrebbe fare un paziente? Beh, il paziente naturalmente ha la comparsa dei primi sintomi che sono un senso di addormentamento o di formicolio durante la notte, il paziente si sveglia la notte perché sente la mano che dà fastidio, è un fastidio che non è ancora un vero e proprio dolore, è una sensazione fastidiosa comunque o di formicolio o di addormentamento, qualche volta puntura di spillo, quindi lui non ha la più pallida idea che sia una sindrome del tunnel carpale, una neuropatia dà intrappolamento, c'è un fastidio che lo sveglia di notte e andrà dal suo medico di famiglia. Il medico di famiglia in Italia è sufficientemente preparato per cui quando il paziente gli descrive quello che succede immediatamente il medico di famiglia ci pensa alla possibilità di un assidone del tunnel carpale e a questo punto può esaminarlo clinicamente, il problema è che a inizio della condizione non c'è ancora nessun segno oggettivo, quindi anche per il medico di famiglia più preparato e volenteroso sarebbe molto difficile fare la diagnosi, anche perché il paziente non sa descrivere esattamente quali territori della mano vengono interessati. Quando faccio lezione, al primo giorno di lezione, per spiegare l'importanza della neuroanatomia nello studio delle malattie del sistema nervoso, faccio sempre vedere come è facile distinguere un disturbo sensitivo nella mano che origini da uno dei nervi al polso oppure origini dalle radici spinali e quindi se devono chiedere un esame elettroneurografico oppure chiedere una risonanza della colonna cervicale, ma questo è tutto vero solo quando il paziente ha ormai già dei disturbi che comportano un'anestesia, un disturbo sensitivo oggettivo. Quando tu ti svegli di notte e ti formicano la mano non lo capisci neanche tu dove c'hai il fastidio. I miei pazienti mi dicono che è tutta la mano che gli dà fastidio. Quindi, cosa dovrebbe fare a questo punto il medico di famiglia? Se il paziente ha tardato molto andare, quindi trova già dei deficit oggettivi che gli fanno fare diagnosi anche solo clinica, bene. Se no deve andare al paziente in un ambiente neurologico a fare una visita neurologica, un esame elettroneurografico e poi il neurologo secondo me dovrebbe decidere se fare anche la risonanza magnetica cervicale oppure no. Mi aveva anche chiesto che provvedimenti deve prendere? Ecco, quello che si può fare comunque da subito nel dubbio è quello di spiegare al paziente di portare un palmare, cioè un attrezzo che può essere banalmente fatto home-made, di compensato, ma si trova chiaramente il materiale più adatto nei negozi, come si chiamano, di articoli sanitari, grazie mille, che deve mettere alla notte in modo da impedire che durante la notte la mano vada incontro a eccessive flessioni e estensioni, rimanga più dritta e questo gli aumenta di gran lunga lo spanna di resistenza prima di andare verso quello che una volta si considerava quasi ineluttabile intervento. C'è una fase, magari nel processo di cura, prima o dopo l'intervento in cui va utilizzata la terapia con l'acetilcarnitina? Stiamo vedendo che la terapia con l'evoacetilcarnitina, in modo sorprendente, in uno studio che nel mio gruppo, cioè la Sapienza di Roma, si è concluso, quindi noi abbiamo i dati finali, però non è ancora concluso in tutta Italia, sta dando dei risultati per me veramente inaspettati, nel senso che noi abbiamo studiato una popolazione con sindrome del tunnel carpale di grado moderato lieve e in una condizione in cui ci si attenderebbe che il nervo peggiora sempre di più, perché l'evento patogeno sta sempre lì, quindi la compressione rimane lì e quindi noi ci tenderemo a trovare al massimo un effetto neuroprotettivo in cui i dati non peggioravano. Invece abbiamo visto un miglioramento di moltissimi parametri strumentali dalla velocità di conduzione, che era il primary endpoint, a tanti altri parametri, sia sulle fibre sensitive che sulle fibre motorie, sulla valutazione del dolore, eccetera, che ci ha sorpresi e adesso devo dire che questo mi rende molto fiducioso per il futuro. Sulla questione quando lo deve prendere, sicuramente lo dovrebbe prendere prima che il nervo sia ciancicato. Quando si fa l'intervento, il soggetto rimane sveglio, si apre sopra il polso, si vede una tela trasversa che schiaccia il nervo e queste guaine tendine che a volte appaiano tutte fibrose attaccate le une agli altre e quindi bisognerà sbrigliarle e si vede il nervo anche completamente ciancicato, storto, più grigio perché anche la vascularizzazione non è buona. A volte il chirurgo è costretto a fare un vero intervento di neurografia, cioè deve mettersi in microscopia e riavvocare i fascicoli del nervo. Allora in quel caso abbiamo solo l'intervento, quindi bisogna che il paziente e il suo medico di famiglia, io li metto in coppia perché li vedo come un tutt'uno che collabora tra di loro, si attivino presto, facciano le indagini presto e cerchino dei trattamenti adeguati, anche perché qualche volta è sbagliato mandare il paziente all'intervento perché il tunnel carpale può essere anche secondario a tutto un gruppo di patologie per cui sarebbe inutile l'intervento o comunque non risolutivo.